Dice ma come fai il video mentre mangi, mentre fai colazione? Sì, a casa tua? Sì, ma dovresti farla nel tuo studio? Eh no, basta con lo studio, vabbè no, basta con lo studio no, lo farò anche nello studio Però diccome la casa è intimo, è un luogo intimo E quello che io andrò a fare sarà una cosa che riguarda l'aspetto intimo dell'arte E allora questo è il luogo da cui io lancio questa pubblicità Allora, tutti i giovedì ho deciso che presenterò un video in cui io risponderò a tutte le domande che mi avete fatto C'è chi mi ha chiesto come nascono i quadri, se li penso prima, cosa muove ogni passo che faccio Ecco, ritengo interessanti queste domande che avete fatto, voglio dare loro l'importanza giusta E allora tutti i giovedì ci sarà questa rubrica, chiamiamola così Giovedì curioso, come quello che faccio a scuola Buona colazione a tutti e a tutte Arte da mangiare